Sai come si chiama l'ostacolo che ti sta impedendo di arrivare dove vuoi? Il grande ostacolo che separa le persone da dove sono, a dove vogliono andare, si chiama semplicemente passato. Il passato e le nostre esperienze influenzano le nostre scelte, plasmano le nostre paure e le nostre preoccupazioni e ci spingono a rimanere all'interno di quella che noi definiamo comfort zone. Ed è per questo che facciamo fatica ad abbandonare un lavoro che detestiamo, che ci fa stare male e che ci ha provocato stress. Perché probabilmente il passato ci ha insegnato a non abbandonare quella determinata situazione perché portava sicurezza, anche se con un po' di discomfort. Il problema è che noi non ci portiamo dietro veramente il passato, ma l'interpretazione che noi abbiamo dato di questo passato, che è diversa dagli eventi effettivi. Il cambiamento però si basa proprio sul superare il passato e soprattutto capire che cos'è stato, sul non farci condizionare da esso, ma imparare alcune lezioni importanti da portarci dietro, senza che esse ci ostacoli nel raggiungimento di quello che vogliamo veramente. Cosa pensi del tuo passato, che ti stia impedendo di fare il grande cambiamento della tua vita? Faccelo sapere nei commenti. Faccio. Faccio.